18 aprile 2019 la visita guidata al cantiere del Palalido, mancano 12 giorni alla consegna dell'impianto milanese, previsto per il 30 di aprile la chiusura cantiere, poi ci sarà un mese per i collaudi e finalmente intorno al 13-15 giugno presumibilmente l'inaugurazione dell'impianto che come primo evento ospiterà la Volleyball National League dalle 21 alle 23 giugno con i campioni del mondo della Polonia oltre all'Italia, nel frattempo all'inizio di maggio la visita del FIWB che dovrà dare l'ok definitivo per la tre giorni di pallavolo, finalmente Milano riavrà il suo Palalido, ha inaugurato nel 1961, torna in una veste nuova, 5.000 posti che ospiteranno anche le partite della Revivra Milano Assessore eccoci qui, finalmente il Palalido vede il traguardo Sì, siamo arrivati alla fine, mancano pochi giorni per la chiusura dei lavori, come vedete c'è tutta la parte strutturale, c'è tutta la parte impiantistica, mancano gli arredi e verrà completata la posa degli arredi nei prossimi giorni, nella prossima settimana Il parquet sarà l'ultimo pezzo di arredo che verrà messo e partiranno i collaudi, anche questi appena chiusi i lavori, quindi da settimana prossima, subito dopo Pasqua e poi partiremo con Nuova Vita al Palalido Dando una sorta di scadenza tempistica, chiusura lavori, inaugurazione, che date ci sono in programma? Allora, chiusura lavori è prevista per il 30 aprile, poi ci saranno i tempi dei collaudi che speriamo si concludano nel giro di un mese E poi stiamo programmando l'inaugurazione intorno a metà giugno e poi partirà la vita sportiva e non solo sportiva del Palalido C'è già qualche idea per l'evento inaugurale? No, stiamo parlandone con il presidente Malagò, con il sindaco Sala, vedremo cosa fare, ma faremo una cosa milanese, c'è aperta a tutti, molto sobria I primi eventi? Verso fine giugno stiamo organizzando l'European Nation Volley, che è una bella settimana di volley con i campionati anche nazionali qui a Milano Diffusa in tutta la città, che quindi coinvolgerà anche il Palalido, ci sarà sia la pallavolo sia il beach volley in Milano, qui solo la pallavolo Altri eventi extrasportivi per ora previsti? No, per ora ci stiamo concentrando sullo sport, essendo un palazzetto dello sport sicuramente con la prossima stagione potremo valutare anche di ospitare eventi più di intrattenimento Grazie a tutti